Cioè ragazzi io non ho parole, come voler perdere, ma veramente per me votano soltanto quelli che hanno a che fare con la politica, perché come si fa a votare questo trombone qua che stava in televisione e diceva di essere imparziale e adesso l'europea e Luciana Anzare verso la candidatura come calpolista del PD al Sud, la giornalista, ma che giornalista? Il giornalista deve essere imparziale, non puoi dire giornalista a una che è di parte, sarebbe indicata dai dem come indipendente, ma indipendente come fai a essere indipendente se sei con uno schieramento? Questi sono impazziti e voi votate sta gente